Amici di Noi Bianco Celesti, ben ritrovati e come sempre al termine del mercato vengo a fare questo video per dire la mia opinione su quanto è operato dalla Lazio, ma prima vi invito a iscrivervi al canale, mettere like a questo video, commentarlo e sono attive anche le donazioni e gli abbonamenti al canale di Noi Bianco Celesti, quindi mi raccomando fate tutte queste cose. Il calciopercato direi per fortuna che è finito perché quanto ho fatto vedere dalla Lazio soprattutto negli ultimi giorni ha del tragicomico, ridiamo per non piangere perché poi alla fine della giostra la squadra ne esce inesorabilmente indebolita, io avevo apprezzato e sperato che le parole del direttore sportivo, del presidente di Lodito che parlavano di ristrutturazione potessero avere un seguito ed invece questo finale, questi ultimi 15 giorni di mercato ci hanno fatto capire che non è così. C'è una parola sola che racchiude quanto ho fatto vedere dalla Lazio, ma soprattutto ovviamente dai protagonisti, lo dito in primis, si chiama ridimensionamento perché il ridimensionamento è evidente, palese, inesorabile e devo dire anche per certi versi grottesco e pericoloso. Partiamo dal presupposto, la Lazio ha operato subito degli buoni acquisti, gli acquisti di prospettiva che potevano lasciare intuire una strategia dietro magari quello che era il mercato e a me ha anche impressionato in maniera positiva anche se non ero d'accordo su alcune cose, cioè non ero d'accordo su prendere non se ne c'è una insieme, avrei preferito se ne prendesse solo uno, avrei preferito aspettare magari gli ultimi giorni di mercato se poteva liberarsi qualcosa di più interessante, a meno che non si fosse arrivati ad una punta di diamante che poteva essere Greenwood, che poteva essere Cerchi, che poteva essere Stanks, ecco. Invece non è accaduto nulla di tutto questo, si sono acquistati giocatori che lo scorso anno erano alla Salernitana, lo scorso anno erano al Verona e oppure erano in Turchia, ma nulla da dire contro questi giocatori. Ecco, però a netto del fatto che sono andati via dei campioni come Immobile, come Felipe Anderson e di Luis Alberto e sono andati via delle componenti importanti per quella Lazio che è arrivato a seconda come Cataldi e Casale. Sinceramente ecco, mi sarei tu aspettato tutto, tranne che Lotito e Fabiani consegnassero una rosa incompleta, io non dico dal punto di vista tecnico, ma numerico a Baroni. La cosa sconcertante è che la Lazio ha a disposizione, in un ruolo nevralgico, come il centrocampo, cinque giocatori. A parte del presupposto, le prime giornate sono stati giocati con tre centrocampisti, quindi non ha nemmeno un sostituto per ruolo, siamo praticamente a una cosa che non è accettabile perché poi non c'è nemmeno il giovane della primavera da poter inserire, c'è la possibilità di reintegrare due giocatori che sono stati offerti alla qualunque e che non sono stati presi da nessuno come Akpa e come Basic e quindi si consegna e per di più, se io analizzo sono non preoccupato, ma drammaticamente preoccupato dal fatto che lo scorso anno Rovella ha avuto problemi di pubbalgia, che uno di questi acquisti è un giocatore che in tre anni ha subito due operazioni e che ha racimolato una quarantina di presenze in campionato e diventa un giocatore fondamentale perché poi alla fine, ho detto sono cinque, un altro giocatore è un giovane di 23 anni che ha giocato una stagione sola in Turchia e poi è qui, quindi magari non ha nemmeno il bagaglio di esperienza e noi andremo ad affrontare una stagione nella quale ci sarà anche un impegno in Europa League, del quale l'allenatore ci ha detto che verrà preso al massimo perché bisogna dare il massimo in ogni competizione, ben venga, ma poi la mia domanda che accade, la mia riflessione è che ci sono gli infortuni durante la stagione, ci sono le squalifiche, ci sono i cali di forma alla quale l'Azio non potrà superire, non potrà avere alcuna arma contro queste cose che inevitabilmente accadono durante una stagione e perché non ha domini, non ha nemmeno i sostituti naturali numerici di un giocatore che può andare ed uscire, quindi l'allenatore si lascia in balia di una situazione più grande di lui perché poi l'allenatore non ha mai fatto le coppe europee, non ha mai gestito un tripolo impegno settimanale, non ha mai allenato una squadra di Serie A che lottasse per questi traguardi, quindi siamo all'interno di una dinamica nel quale il calcio mercato della Lazio ci ha tolto tutte quelle componenti che potevano avere un minimo di esperienza per puntare all'obiettivo che la società ha dato, che Lottito e Baroni hanno dato, che è migliorare il posizionamento dell'anno scorso, quindi arrivare almeno sesti. Io vi ricordo che lo scorso anno l'obiettivo minimo era rientrare nelle prime quattro, siamo passati in un anno dal cambiare oltre che gran parte dei componenti della Rosa, ma dal ridimensionare perché in questo caso gli obiettivi sono ridimensionati, non ho tema di smentita da parte del direttore sportivo e del Presidente, perché in questo caso gli obiettivi che loro hanno dato sono ridimensionati e non sono ristrutturati, non sono rimodulati, cioè sono ridimensionati. Se parti per rientrare in Champions e poi l'anno dopo parti per migliorare il settimo posto, ti sei ridimensionato. È chiaro che però va analizzato il mercato nella sua complessità e vanno analizzati anche oltre che le poche risorse economiche che Lottito ha messo a disposizione, ma questo lo sapevamo e sinceramente non ne faccio nemmeno una colpa perché comunque saprà lui, io voglio dare il beneficio inventario del fatto che lui sa com'è la situazione, però la strategia utilizzata, questa sorta di epurazione dello spogliatoio è una cosa che non si comprende, perché è masochistica, perché io capisco mandare via Immobile, capisco mandare via Cataldi, anzi non lo condivido, non lo capisco però lo voglio anche lasciare andare, ma non posso accettare che questi giocatori numericamente non vengano sostituiti. Poi potevano arrivare pure delle signori pippe, ma andavano sostituiti anche numericamente. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è proprio l'allontanamento, perché in questo caso è un allontanamento di Cataldi che è ceduto in prestito con diritto di riscatto, quindi l'anno prossimo ce lo rimandano dietro se gli serve, se no altrimenti arrivederci e grazie. Non è nemmeno una ragione economica perché Cataldi non ha uno stipendio così esorbitante che non è che può incidere in maniera significativa sulle casse, quindi è una sorta di punizione, di castrazione che la Lazio si fa e lo si dà a una diretta concorrente che l'anno scorso ragazzi è arrivato in un punto sotto, sono arrivati in un punto sotto a noi e hanno fatto pure una finale europea. Quindi noi abbiamo perso tanti giocatori, lo hanno fatto anche loro, sinceramente anche loro stanno in codice, però loro ieri sono intervenuti sul mercato e l'hanno fatto in maniera pesante. Però poi tu fai una scelta del genere dicendo che comunque farei ringiovanire, mi sarei aspettato l'arrivo di un giovane, poteva essere follow ruscio, per me non serviva dal punto di vista tecnico, però ben venga ecco un innesto, un giocatore importante, convocato in nazionale, radio c'è una stagione importante, sarebbe stato ben accetto, ma poi non arriva nessuno, nessuno nemmeno un giovane, nemmeno un Vignaroli di turno come era stato, qualcuno che ti potesse dire vabbè quello può diventare, non arriva proprio nessuno, si decide in maniera scelerata di togliersi un giocatore, di darlo a una diretta concorrente e tu di rimanere senza un giocatore. Con questa situazione al centro campo in cui ce n'hai cinque di cui uno da tre anni non gioca e noi siamo qui nella speranza che la valutazione di quelli che stanno a Formello sia una valutazione geniale, perché si tratta di avere veramente un'intuizione, essere unti dal Signore se questa situazione ci porta dei risultati positivi, vanno fatti dei complimenti e li dovremmo incensare e portare magari più che la Lazio magari al governo dell'Italia se riusciranno con questa situazione, con quello che hanno creato a migliorare in maniera significativa e arrivare tra le prime quattro, perché significa veramente diventare dei geni assoluti, non succederà sicuramente, sarà complicato confermare il risultato dell'anno scorso, settimo posto, sarà molto complicato, difficile se non difficilissimo migliorare quello, raggiungere l'obiettivo che si sono preposti. Ma poi vengono meno anche quelli che erano stati i dettami del direttore sportivo, che era quello di ringiovanire la rosa, perché poi va via Casale e viene preso un 31enne, è una stagione disastrosa, è una stagione negativa, fuori dal progetto quindi un esubero, pagato 3 milioni e mezzo, quindi nel senso noi li paghiamo i giocatori, non è che andiamo a prendere magari un prestito, poi l'anno prossimo vediamo se investire quei giocatori, noi compriamo un giocatore di 31 anni, acquistiamo un giocatore di 31 anni con l'obiettivo che era quello di ringiovanire e a nulla vale la cosa, dice ma se ci sono delle occasioni di mercato, perché Gico non è un'occasione di mercato, non è un'occasione di mercato, è un esubero dell'ultimo giorno del Marsiglia, se era un'occasione lo pagavi zero, se lo paghi non è un'occasione, lo stai pagando quello che ha il suo valore, non è un'occasione, è quello che ci ha fatto vedere lo scorso anno Gico, è quello che ci ha fatto vedere Casale l'anno scorso, ovvero una stagione deludente, ma Casale ha anni in meno, è italiano, non si deve adattare al campionato e comunque aveva un suo valore intrinsico, perché poi se il Bologna lo riscatterà, lo riscatterà a 7-8 milioni, quindi ha un suo valore, quindi noi andiamo ad acquistare, a spendere soldi, moneta per un 31enne fuori da un progetto tecnico, ambizioso come quello del Marsiglia, perché il Marsiglia è un progetto più ambizioso, perché ha preso anche quel Greenwood che noi abbiamo inseguito, per il quale l'ho dito in un'intervista, ci ha detto che aveva offerto 20 milioni, 20 milioni offerti per Greenwood, che non si sa che fine hanno fatto, si sono smaterializzati, non sono stati reinvestiti in un altro giocatore, ma sono stati completamente, si sono evaporati, come si è evaporato il giocatore dieci volte più forte di Greenwood che ci aveva detto che avrebbe preso, che però poi ha detto che era un gioco, va bene, io non so che cosa c'è da giocare, quando c'è una contestazione, una tifoseria che comunque con amore, con passione ti fa capire che vuole avere delle certezze, e invece tu metti in scena l'ennesima pantomima dicendo anche bugie, ho un 2005, vedrete, di qua di là, non è arrivato nemmeno il 2005, quindi non si è fatta nessuna delle cose che si sono dette, che si sono sbandierate e dei quali si sono magari gonfiati il petto nel prestagione, durante l'estate, quindi l'ingiovanimento della rosa alla fine si è andato a fare fotte, perché abbiamo preso uno dei 25, 26 anni, l'abbiamo ceduto, l'abbiamo sbolognato, ecco proprio sbolognato, per prendere uno di 31, il 12 ottobre fa 31 anni. Poi non si è preso il giovane 2005, quello dieci volte di Greenwood non ci abbiamo mai creduto, caro lo dite, quindi inutile che magari pensate che magari non ci avessimo creduto, non ci abbiamo mai creduto, era un sogno già che prendevi Greenwood, infatti non l'hai preso, ecco. E poi ci siamo andati, c'è da dire, ecco da valutare quanto ho fatto vedere dal direttore sportivo, che si è incastrato, io non so se insieme alla Natura o meno, in un equivoco tattico, che poi alla fine priva la Lazio di centrocampisti e ci fa riempire la squadra, se esterni, seconde punte, mezze punte, gente che comunque è in esubero rispetto ai posti liberi, perché è stato provato Nostrini al centro dell'attacco, non è andato bene, è stato provato dietro la punta, non è andato bene, è stato preso D.A. Poi quindi abbiamo Zaccagna a sinistra che è il titolare, che difficilmente lascia dal posto e quindi serviva una riserva, magari uno giovane, oppure magari potevi tenere Pedro che comunque quel suo lo sapeva fare, però poi alla fine hai preso invece altri due giocatori, Nostrini e Ciaunà, e in più è Isaacson che ha pagato 15 milioni nello scorso anno, che tutti quanti vanno a giocare, perché Nostrini ha fatto giocare alla destra, visto che a sinistra c'è Zaccagna, quindi non puoi farlo giocare a sinistra, poi c'è un A che l'hai preso, c'è Isaacson, quindi tre giocatori per un posto, quindi di questi qua due vanno in panchina, magari uno di quei due poteva essere magari tolto, tolto di A e acquistato magari un giocatore più prestigioso, quindi questa è la situazione. Io credo che anche qui il direttore sportivo si è un po' incartato, non so se con l'allenatore o meno lo ripeto, però qua è onestamente una valutazione di campo che è una mia sensazione ma non ha un riscontro, lo voglio vedere, vediamo se magari hanno ragione loro, se Barone li riuscirà a gestire, però ecco mi sembra che lì qualcosa manca, perché poi magari quell'analisi poteva prendere un trequartista con i soldi di un esterno, e invece lì su trequarti è stato bocciato, quindi da questo punto di vista abbiamo un cratere in cui c'è Dele Bascilo e Castrovilli, quel Castrovilli, però onestamente forse allora serviva un altro regista, un'altra mezzata, insomma secondo me una centrocampo serviva ragazzi, poi le caratteristiche le dovevano scegliere loro, non le hanno scelte, si sono tolti anche di Cataldi, così risparmieranno questo milione, milione e mezzo, due milioni di ingaggio che così magari potranno permettere a Lazio di sopravvivere, no spero di no, spero che non sia stato questo il problema, c'è dietro qualcosa dal punto di vista strategico, no perché l'ha ceduto in prestico un diritto di riscatto e quindi ci ritroviamo in queste condizioni disperate, ecco io credo che l'errore più grande non sia stato dal punto di vista tecnico, né i soldi spesi, è stato proprio non dire la verità ai tifosi e vediamo cosa ci dirà Baroni perché pretendo anche la verità da Baroni, altrimenti anche lui diventa complice di questa cosa, non dire la verità ai tifosi, attaccare per certi versi con dichiarazioni che poi non si sono rivelate vere, perché poi tu quando dici certe cose, prendo il 2005, tre, la contestazione a me non mi tocco, perché non ti deve toccare, la contestazione deve essere il tuo principale pensiero perché quelli che sono i tuoi tifosi sono anche il tuo bacino d'utenza, è come se io vendo il salame e ho i clienti che dicono che il salame mio fa schifo e dicono a me non mi interessa se vendo il salame, se quelli pensano il salame è un problema loro perché magari insomma mangiano, ma io non lo vendo, quindi questo modo di gestire e di comunicare è totalmente sbagliato, quindi questo è stato l'errore principale da parte del presidente numero uno, grande protagonista di questa di SPAT e anche il direttore sportivo perché almeno su di lui qualcosa dal punto di vista della sincerità mi sarebbe aspettato, perché poi quello che si è visto non si è riscontrato, il giovanimento non c'è, i ruoli sono scoperti, strategia non si sa e quindi sembra che la squadra quasi sia abbandonata a se stessa, anche perché poi quelle caratteristiche che ci hanno raccontato di fisicità, squadra che sarà fisica, che sarà dominante, che cambia modo di giocare, prima partita Udine, squadra mediamente fisica, ci ha preso a spallate, perso 2-1, poteva essere di più, giocato una partita ignobbile e l'abbiamo persa tatticamente, tecnicamente e fisicamente, quindi ecco questi sono i risultati. Io penso che in questo momento i tifosi della Lazio il mio appello è quello che ho scritto proprio anche in quell'editoriale e che poi alla fine noi stasera saremo lì all'Olimpio a tifare la per la Lazio, io farò il commento, nella speranza che in campo la Lazio vinca perché non tiferemo mai contro la Lazio e non ci riusciranno mai a farlo, non ci allontanano la mano della Lazio, perché poi alla fine, caro l'Odito, ai Laziani, alla Lazio ci pensano i Laziani, ecco questo penso sia la cosa principale da dire, perché proprio è questo, perché alla Lazio ci hanno sempre pensato e solo i tifosi della Lazio e quelli saranno l'arma in più quest'anno, anche se sarà un anno di grande e di grande difficoltà. Io vi lascio, mi sono allungato troppo ma il calciomercato lo richiedeva, vi dico ovviamente di iscrivervi al canale, vi ricordo di mettere like al video, di commentarlo e sono attivi abbonamenti e donazioni. Anche oggi come sempre e questa volta mi rivolgo ecco oggi al caro l'Odito, gli dico, Presidente, forza Lazio!